Da Caria e Silvania sono tornate. Vai, vai, vai! E con loro anche vecchie conoscenze. Questa volta non sfuggiranno. E nuove amicizie. Non le farà male. I Krypton Klax terranno un concerto nel Bosco Ombruzzo. Non è affatto lontano da qui. Lo chiedo a papà. No. Ma dai! Sai chi è il nuovo manager dei Krypton Klax? Eric Clapton. È Xanthor. È tua sorella? Quel Xanthor? Non gli prometto di proibirmelo. Come ti chiami? Daka! Daka? Sangue e muffa. Sarà la perfetta serva per i prossimi mille anni. Questo autunno sarà riscaldato da forti sentimenti. Ha scritto una canzone per me. Cosa? Daka è innamorata. Non sono stata io. È stato Karl Lines. Un segreto sinistro. Ho paura che stia succedendo qualcosa. Avrà a che fare con quella band. Sì! Murdo non è assolutamente un brutto tipo. È proprio tanto dolce. Beh, anche tu trovi questo murdo così fico? È Daka che ha una cotta per murdo, non io. E tante avventure... Bambino lattiche. Spostatevi! Daka! Sangue e muffa per i prossimi mille anni. Lasciami andare, ora! Basta! Oh, la situazione è sotto controllo. Innamorata di un vampiro. Che cosa ha combinato? Vedo che sanguina. Non ce l'hai bisogno. I valori del sangue sono a posto, ma il colesterolo è alto.